Ecomondo 2014, siamo allo stand del CDC RAE con il direttore generale Fabrizio Longoni, bentornato su greenbeads.it. Molte le novità nel settore a partire dall'attuazione della normativa europea sui RAE. Sì, l'Italia ha recepito quest'anno la direttiva europea nei tempi previsti, terzo stato a farlo, questione anche di orgoglio nazionale per una volta, a vincere che l'altra volta eravamo arrivati ultimi. Tante novità, soprattutto a partire dai prodotti che sono ricompresi in questa nuova direttiva, una novità per tutti i pannelli fotovoltaici e alcuni elementi che ci dovranno condurre a raggiungere degli obiettivi che sono stati fissati alla direttiva che sono estremamente sfidanti. Parliamo di fare almeno il 300% in più di obiettivo di raccolta da qui a sei anni. Quali sono i prossimi passi da compiere per il settore? Dopo il recepimento della direttiva mancano alcuni decreti attuativi che il Ministero si impegna a fare e su cui sappiamo che sta lavorando, che dovranno dare una completa attuazione dell'apparato normativo. In particolare i controlli verso coloro che devono trattare i rifiuti devono diventare maggiormente impegnativi e sarà richiesto quindi, dopo l'uscita di un decreto sull'adeguato trattamento, di verificare chi effettivamente tratta in maniera corretta questi rifiuti. Grazie per ora è tutto.